Signori nonostante il caldo siamo qui e senza condizionatore a parlare di... ah oggi siamo per gli annunci rolli Annunci rolli, sì ragazzi, è la migliore puntata di tutti i tempi stavolta, esatto, noi in fin di vita però ragazzi la puntata non ne risentirà Non risentirà a meno che non moriremo in diretta, lì le risate, lì proprio le views, le views Carrello, l'idraulico la dimenticata casa, a parte... e restituiscilo, non che lo vendi a 50 euro, ma scusa Così, poi 50 euro, ma sei sicuro che li valga? Ma poi perché l'ha dimenticata il carrello? Ma maledetto due volte Tappeto pirulante, pirulante Cerco casa in affitto per l'ano Per tutto l'ano vuole 250 euro? No, per tutto l'ano Ah, l'ano, ah vabbè, in quel caso Strafalcione ragazzi anche nei videogiochi, usicita gioco Ma sai che non me lo ricordavo affatto? Rainbow Six Siege, Free Weekend, vediamo se Ubisoft avrà buggato anche l'annuncio Gioca gratis dall'apostrofe 6 Guino Alle 18 al 9 Guino alle 20 ora locale Ma che cacchio scrivete Guino? Ubisoft, noi ti vogliamo comunque bene, però Guino Allora ragazzi, sicuramente questa è la migliore puntata di Guino Assolutamente è la migliore puntata di Guino Hashtag Guino Dai, abbiamo il titolo Descrizione, vendo Autoradio Pioneer per qualsiasi info contrastate pure Cioè, vediamo avanti, ditemi qualcosa contro Prima vuoi delle info, prima mi devi contrastare Esatto Con tutta la tua vehemenza e tracotanza, forza Vento? Tubi da regenzione Sì Ma tre? Ossi da masticare per cani? Ah, cani Pensavo fosse veneto Protrine 82%, grass naturali 1%, ceneri 1%, umidita 15% Non ho capito, protrine, grassi 1%, ceneri e umidita Cerco limousine o Ferrari per comunione A parte il fatto perché la limousine l'avrà per la comunione Comunque, max 50€, però la vola poco Ah, 50€ una Ferrari? Solo chiesa, sala, no perdi tempo, no commenti inutili No commenti inutili Allora per 50 euro io ti posso fare se vuoi, ma proprio se vuoi poggiare mezza chiappa sullo specchietto Ma comunque poi voglio fatto un favore Ma lui non cerca una Ferrari ma una Ferrari che è la versione tarocca Ah va bene, allora va bene Comunque questo annuncio insomma ce l'avete mandato in tanti In realtà io lo avevo già visto nelle pagine del signor distruggere che salutiamo Esatto Dopo Soddy c'è Sonia Sonia che tra l'altro c'era anche in una puntata di Futurama Amstrad houseware, elettrico capelli taglatore Posso dire una cosa, Amstrad era una bella azienda negli anni 80, inizio 90 Io avevo il PC 386 dell'Amstrad Cioè ora ti sei ridotto a fare i taglatori scassi Salve mia suocera mi ha chiesto se domani posso preparare un dolce con dentro la crema Chantecler Mi potete dare la ricetta Che è il sapone no? Chi pulisce più di Chantilly Chantilly forse volevi dire Ma Chantecler vuole avvelenare la sua Joystick PS3 edizione limitata Causa ho passaggio PS4 Quindi ora non mi serve più consegna a carico del destinatario Ho passaggio PS4 Io ho passaggio PS4 E abbiamo un altro genio No no Questo vince Oddio Che comunque l'hanno fotografato per intero No no questo vince Sto malissimo Ragazzi sto malissimo Tra l'altro pezzo in privato Sembra che stai dando un calcio in culo alla macchina perché non parte No no questo Allora ragazzi Perché Sullo store Ubisoft Watch Dogs è chiamato guarda i cani Guarda i cani Sembrano i titoli tradotti su Pornado su ebay Su ebay traducono veramente Google pixel c tablet Ah questo è quello per giocare a stadia Esatto ragazzi per google stadia vi serve questo Ok E come si usa così? No metti No lo devi indossare mentre giochi Oppure questa è la feticist edition Oggi è un ristorante tedesco Allora Cioè è un ristorante italiano in Germania In tedesca Quindi se è tedesco devo fare Mi deve dare tutti i cosi Caramello? No Ok Il menù forza Allora Anzitutto vorrei dirle Nudelgerichte Spaghetti penne Hausegmacht E gnocci Calore Questa la voglieranno Calore Lavativo In pochissimi e vecchissimi Ok Bolognese Carbonara Va bene E gliela raccomando qui in Germania La carbonara Primavera Frutti di mare Quattro formaggio Risotto frutti di mare Lasagna al forno Lasagne Allora Perché sono anche le lasagne Non al forno E come le fai? Crude Facciamo anche le pizze Allora voglio le pizze Forza Va bene Optiamo per una pizza Perché la osmachita Tra l'altro ha finito Mi ha detto Carmela Che si prepara con Residui organici corporeli Pizza Pizza Allora Allora Mexicana Ok Margarita Poi cipolla Funghia Romana Cardinale Vediamo una papalina In omaggio Bolognese Anche qui Noi lo scriviamo dappertutto Andro non lo prende Ma nessuno Ma fa tanto ristorante italiano Salami Salami Bari Salami Tonno Vegetaria Vegetaria Ecco Hawaii Però con una I Quindi è con l'anana Ok E poi quattro stragioni Capricciosa Rusticana Provenciale E Und wie le smerche Signora Und wie le smerche Va via come l'acqua qui Attenzione ragazzi Qui andiamo avanti Con la PSP4 Io mi sono fermato alla PSP1 Però noi ho varie versioni Se vuoi sì SD Se vuoi sì Se vuoi sì S10 Televisione 500 pollici iPhone Contattemi In privato Infatti è 55 E poi tu non è che devi attribuire numeri a caso Ho detto cosa A 500 Ma faceva ridere così Va bene così Ragazzi Ci disanalfabetizziamo Quando leggiamo a noi Ragazzi ma tratta Contattemi Non so parlare più Contattemi Su Abe's Odyssey Signori Una tumultuosa risata Senza fine Sempre che un'orda Di paramiti furiosi Delle rocce cadenti E farti parlare Nella schiena Siano la tua idea Di risata Questa è quasi Da reale palla Vendota Sei ante Che voleva dire Vendita Oppure che ha già venduto Sei delle Delle otto ante In biancino In biancino Stucco Verniciano Parete Cartun Gesso Per info Chiami E c'è il Non in vendita Per adesso E allora perché l'hai messo Quindi per adesso Ma che senso ha Arrogalla Alfa GT 1900 GTD Station Wagon Arrogalla Dispongo di rimasugli Di Alfa GT Rimasugli che sarebbe Rimasugli Qua vorrei fare una battuta Black comedy No vabbè Rimasugli GT Bella Toga Prezzi di realizzo Muovetemi Non ho voglia di sentire nessuno Comprate Datami I soldi Veloci PS Chi legge Non compra Gli cadono i capelli Ma che bimomincio sei Allora se non sbaglio Chi ce l'ha mandato Mi ha scritto Che arrogalla In sardo Vuol dire Pezzettini Ha capito Ha capito Fegatelli Ha capito Chi non lo compra Quindi chi legge E non compra Gli cadono i capelli Ma sti cazzi Vabbè però Mi tocco Vendo iPhone 8 Con batteria Al 91% Ma vendimela Al 100% Che vuol dire Che vuol dire Forbice Per unchie Per animali Forbice Per unchie Hanno sbagliato Magari si correggono Accessori Ugne Di animali Piacina fuoriterra Con scal E filtro a sabbia Usata un solo anno Piacina fuoriterra Con filtro a sabbia A me ce la farebbe schifo Vabbè Ma questa è una piacina Quindi ti piace per forza La più brutta È la battuta Che ho fatto prima Signori Come potete immaginare Questa Allora Anzitutto abbiamo stabilito Che è la migliore puntata Di Guino Di Guino Ragazzi Senza ombra di dubbio E quindi mi raccomando Ragazzi inviateci I annunci non li seguite Le distruzioni In descrizione Le istruzioni In descrizione Sì Ecco Noi vi ringraziamo E ci vediamo Alla prossima Grazie mille Bis Ciao Noi vi ringraziamo 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 Noi vi ringraziamo